Maria Rita Carota, presidente di Colli Senza Frontiere, 17esima edizione, ormai un appuntamento fisso di fine estate per la zona e il quartiere dei Colli di Pescara. Sì, certamente, è un appuntamento che tutti aspettano, noi andiamo in giro per strada perché siamo tutti dei Colli e ci chiedono quando inizia, quando inizia, effettivamente inizia e inizierà il 23 agosto, quindi dal 23 agosto al 31 agosto saremo presenti in piazza e non solo per i giochi di Colli Senza Frontiere. Vogliamo ricordare quali saranno le squadre e come si svolgerà questa manifestazione? Sì, la formula è sempre la stessa dalla prima edizione di Colli Senza Frontiere, le squadre sono otto, rappresentano i Colli di Pescara, li ricordiamo brevemente, Colle Caprino, Cervone, Di Mezzo, Innamorati, Madonna, Marino, Pietra e Scorrano. Con 35 partecipanti ognuna, lieteranno le nostre giornate in questo periodo di Colli Senza Frontiere, dicevo non solo in piazza ma quest'anno ci trasferiamo anche verso il mare. Infatti alcuni giochi si svolgeranno presso lo stabilimento Salus San Mare e precisamente i giochi, il torneo di bocce e il torneo di biglie al mare e invece la novità assoluta di quest'anno sono i giochi in piscina, presso la piscina di Onda Marina, dello stabilimento Onda Marina e riproporremo alcuni dei giochi che abbiamo già svolto alla competizione nazionale Italia Gioca a San Felice Circeo. Presidente alle nostre spalle vediamo questa splendida scultura, di cosa si tratta? Diciamo che l'ultima opera del compianto professor Pino Dolente ci ha donato questa sua ultima opera, per noi preziosissima, rappresenta l'amicizia, quindi le mani unite, le mani unite di ogni squadra che rappresenta i colli di Pescara, hanno queste mani, il braccialetto che ha il colore di ogni squadra e vuole rappresentare proprio lo spirito di questa manifestazione, amicizia, allegria ma anche sana competizione.